Grazie Presidente, ma noi non accettiamo le parole che stiamo facendo una sceneggiata populista, perché i populisti siete voi sul territorio, con i vostri parlamentari del PD che vanno ogni convegno, ogni incontro in piazza a dire che vogliono riformare la legge Fornero e non lo fanno, fanno anche, ci assumiamo la responsabilità, pressione per che la Corte dia una sentenza totalmente contraria all'esito, al buon esito che ha attuato la raccolta firma e la Lega Nord. Noi non prendiamo le distanze dai problemi del Paese come fate voi, voi continuate a prendere per il culo la gente italiana... Non regalasse, le tolgo la parola, le tolgo la parola, la richiamo all'ordine formalmente.